Maria Chiara Zippel, candidata per le liste civiche della nostra Pisa, battiti per Pisa, combatti per Pisa, Pisa libere e sicure, pisani per Pisa. Chi è Maria Chiara Zippel? Allora, sono una donna, una mamma, di quattro figli, un libero professionista, che ama la propria città e ha voglia del cambiamento. Una parola per definire Pisa oggi, un aggettivo. Triste, molto triste. Un aggettivo invece per definire la Pisa del futuro, quella che lei vorrebbe? Una Pisa smart, una Pisa smart però collegata con le tradizioni. Tre parole chiave del suo programma? Sicuramente degrado, sicurezza, università, turismo, giovani, famiglia, disani. Perché i pisani dovrebbero votare per lei? Perché noi siamo la novità, la concretezza, un gruppo di cittadini che amano Pisa. Siamo legati, non siamo legati a partiti politici. Siamo scegli da quella che è la cultura politica. Il 10 giugno, vota Zippel.